questa iniziativa è stata fatta col padre cinico della rai solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono e noi di questo siamo certi la giuria è composta da rosanna fratello la sorella di rosanna fratello carmen lasorella e il fratello di carmen lasorella differenza tra il colesterolo e il polesterolo libro di 700.000 pagine dove si spiega benissimamente la differenza che c'è tra il colesterolo e il polesterolo e come il colesterolo è una cosa il polesterolo è un'altra cosa ha collaborato il mio amico catalano se dovesse fare un viaggio in un'isola deserta chi butterebbe giù dalla torre io scrivo poesie io scrivo dalle 700 alle 1200 poesie al giorno che certe volte non ho neanche il tempo per leggerle pensate è diventato vedovo lo stesso giorno in cui è morta sua moglie tante anguri a tutti non vorrei sembrare monologo tagliamo la testa al topo niente di dopodomani di meno che medicante che non sei un altro tieni queste mille lire 800 lire sono di lemosina il resto mancia posso dargli il tu bene lei deve sapere questo una canzone con la s e se domani c'è una vasta gamba di premi a questo punto c'è un anetto che non è un'isola